Triste risveglio per il mandamento baianese per la morte di Pio Stefanelli, un dolore enorme soprattutto per la comunità di Sperone. Di Pio Stefanelli a novembre dello scorso anno si era tanto parlato, il 34enne idealizzato risultato positivo a Covid, il giorno della sua dimissione dall'ospedale si rifiutò di lasciare il Moscati perché ancora positivo e registrò un messaggio sulla sua pagina Facebook per riferire ciò che gli stava accadendo. Dopo qualche ora tutto venne risolto, Pio tornò a casa e l'ospedale per tutto il periodo che è stato necessario si è fatto carico di prenderlo e riaccompagnarlo per la dialisi. Da qualche tempo Pio si trovava a Genova, da tempo, anzi da sempre, da quando era nato Pio ha affrontato problemi di salute e lo ha fatto sempre mettendo in risalto il suo spirito battagliero. Un giovane dai grandi valori che si è dato tanto da fare nel sociale fino a mettere in secondo piano le sue difficoltà per molti era un punto di riferimento, manifestazioni, ricorrenze particolari, feste, dove c'era da fare lui rispondeva presente. Nonostante le sue difficoltà per il suo paese, la sua comunità, Pio Stefanelli c'era sempre e comunque. Una forza enorme, quella della quale era dotato, che gli ha consentito di vincere tante battaglie, tranne una, evidentemente la più importante. Pio a gennaio si era trasferito a Genova, un viaggio carico di speranze che però, con il trascorrere, si sono sempre più affievolite fino alla drammatica notizia di questa mattina. Le bacheche social in queste ore sono invase dai messaggi dei suoi tantissimi amici, a cominciare dai suoi colleghi del sito Mandamento Notizie. Una notizia che non avremmo mai voluto scrivere e fatichiamo a crederci, ma purtroppo il nostro caro amico e collaboratore Pio Stefanelli non ce l'ha fatta. Sperone, e con esso il mandamento baianese, perde un altro suo figlio.